Ma questa doma ha giocato come una mazza in questa campanola, c'è una cattolina. Mille volte che mi darò tutto, e potrei poter parlare senza preoccuparti, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piace per l'aero, anche se non te lo vedo. E riesco a rinnovarci, solo per portarti a lato e voler, e prenderci a te, se non posso andare, e guardarti a te, il risultato si avrà, ma non si è un riscosso, Come male, come spesso, prima perdermi il risultato.